Doveva raccogliere poche migliaia di dollari, ne ha raggiunti oltre 4 milioni a meno di un mese dal termine della campagna di crowdfunding. Il travel jacket, un giacchetto da viaggio prodotto dalla Baubax, ha riscosso un successo senza precedenti su Kickstarter grazie alle sue 15 funzionalità integrate che lo rendono unico. Ha una mascherina per copersi gli occhi, un cuscino gonfiabile riposti nel cappuccio, i guanti integrati nelle maniche, numerose tasche ognuno per un oggetto ben preciso dagli occhiali da sole al cellulare e quella per le mani è fatta in materiale riscaldante. Il travel jacket che vedrà la luce a novembre prossimo è prenotabile tramite il sito di raccolta fondi in quattro varianti che vanno dalla normale giacca a vento alla felpa, al bomber e al più elegante blazer. A presto!